Era l'ultima tappa e si è trasformata in un gioioso incontro ricco di spunti e di potenziali ulteriori sviluppi futuri. Si è conclusa la sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana e il progetto Cittadini in Erba, promosso dal Rotary Club Gubbio, presieduto da Paola Fiorucci, che segue come ideale prosecuzione quelli ideati nei mesi scorsi, denominati Angels City e Giovani Ciceroni. Tutte attività rivolte alle nuove generazioni, quest'ultimo progetto in particolare ai ragazzi di due classi prime e due classi seconde delle scuole medie che sono stati seguiti direttamente da Nicoletta Bambagioni, socia del Rotary Club Gubbio. Il progetto ha voluto porre in primo piano la parola rispetto degli altri ma prima ancora di se stessi perché, come diceva Cicerone, non siamo nati soltanto per noi. Da qui l'importanza di sensibilizzare gli studenti della città sulla valenza dell'educazione alla convivenza civile, riscoprendo il concetto di comunità, un'esigenza ancora più impellente alla luce di episodi di cronaca molto preoccupanti registrati lo scorso anno proprio di questi tempi e che hanno visto protagonisti soprattutto i più giovani. Per fare questo serve superare l'individualismo e sviluppare l'interesse nei confronti del bene comune, presupposto del progetto Cittadini Nerba che ha visto la felice sinergia di associazionismo, istituzione scolastica e comunale. Siamo veramente soddisfatti e felici di come si è realizzato questo progetto. Chiaramente questo grazie non soltanto al Rotary Club ma al corpo insegnante che ci ha sostenuto e con la quale è iniziata una collaborazione veramente proficua. Questo ha portato chiaramente i stessi ragazzi poi a crederci veramente nella realizzazione di questi lavori che erano poi il risultato di questi incontri che si sono svolti a scuola. Il rapporto con il Rotary è stato assolutamente fondamentale, è stato un alleato strategico, io lo ricordo ogni volta perché comunque con la Presidente e con tutto il suo staff abbiamo instaurato una rete di progetti, attivato comunque anche tutta una serie di attori che hanno contribuito come diceva appunto lei a determinare questo concetto di legalità diffusa. Questo progetto si inserisce in una strategia ben precisa che anche noi amministrazione comunale stiamo portando avanti per cui ben vengano queste iniziative. Abbiamo riproposto anche quest'anno sempre con appunto il Rotary il progetto City Angel e le giovani ciceroni perché siamo convinti che promuovere valori di protagonismo giovanile piuttosto che reprimere sia la strategia più efficace. E proprio questo risultato ha voluto mettere nel mirino il Rotary Club Gubbio dopo il successo con i progetti Angels City e Giovani Ciceroni, rispetto delle regole, presa di coscienza dei diritti e doveri di ognuno, fiducia nel migliorare la vita della collettività. I ragazzi seguiti direttamente da Rotary si sono incontrati anche oggi con la docente Francesca Maiotti mentre alcune settimane fa era stata la volta, oltre che della stessa Maiotti anche del magistrato Paolo Micheli, veri e propri esperti in materia e a conclusione di questo percorso ogni classe è realizzato un manifesto con relativo slogan e grafica personalizzata che verrà affisso in città. La possiamo chiamare una scuola di alta formazione alla vita perché quello che è stato fatto qui a Gubbio con i Rotary è cercare di contaminare questi giovani nel bene con i valori fondamentali dell'uomo che sono il rispetto, la fiducia, la comunione, la solidarietà quindi direi che è un buon inizio questi cittadini in erba speriamo diventino delle belle querce. Intanto per un ciclo di iniziative che si chiude se ne apre uno nuovo sempre sotto leggi da Derrotary Club Gubbio, tante proposte per rendere la città più bella e rinforzare i concetti di senso civico, appartenenza e rispetto delle regole. Al via la terza edizione del progetto Angels City con 15 borse lavoro per offrire ai giovani con età compresa tra i 17 e i 20 anni l'opportunità di sperimentare attività di cura e valorizzazione del contesto urbano e storico anche grazie al contributo dell'amministrazione comunale con l'assessorato alle politiche giovanili.